www.feyyaz.tv Quando arriviamo a questa porta qua, come usciamo dalla porta? Ci mettiamo in posizione perché si guardano i porti qua sono dritte. Ma vuol dire che se l'ha lavorato bene l'uovo, perché se incominciate a spazzolare, premate. Vai, che lima alla destra! Vai! Vai! E' dentro! 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 Sopra! Vai! Andiamo! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.